Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma 4 km di coda per incidente tra Valdarno e Arezzo, in direzione Bologna è vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla Fipili in direzione Mare per lavori 3 km di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino, chiusa l'uscita di Livorno Aurelia in direzione Firenze per lavori. Sulla statale 62 della Cisa il traffico è momentaneamente bloccato a causa di un veicolo in fiamme al km 14,400. La viabilità cittadina tra Firenze e Scandicci è chiusa per il crollo di un muro via delle Bagnese in entrambe le direzioni presso via della Greve. Buon versi Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!